Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A11 tra Prato-Est e Pistoia, in direzione Pisa, 4 km di coda per materiali dispersi. Sulla A12 ci sono code in uscita alla barriera di Rosignano, in direzione sud. Per incidente, code tra Pisa-Centro e il Bivio per la 11 in direzione Genova. Sulla variante Rivali con rallentamenti per traffico intenso tra il Bivio per la 1 e Badia, in direzione Roma. Sulla FIPILI per lavori di manutenzione al viadotto del Turbone, possibili disagi in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Sul raccordo Siena-Firenze è chiuso lo svincolo di Tavarnelle in direzione Firenze, fino al termine dei lavori. Buon versino Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!